Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per giovedì 7 dicembre. Che tempo farà? Ebbene, prevediamo una giornata ancora di stampo prettamente invernale, quindi farà freddo su gran parte dell'Italia, ma l'evento di maggior rilievo è l'arrivo di debole piogge dalla sera su Toscana e Liguria per l'avanguardia di una colata di aria fredda che poi darà i suoi massimi effetti tra venerdì 8 e domenica 10. In particolare, sempre nella giornata di giovedì, vi saranno forti gelati di notte nel primo mattino sulle regioni di nord-oest, Venezia e zone interne del centro. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.